Presidente, è stata una lunga giornata e anche intensa. Ha convocato prima i suoi collaboratori a Bari, poi la visita alla squadra. Che cosa è successo? Cosa ha deciso Antonio Flora? Non si può parlare di decisioni. Io ho sentito prima i miei collaboratori, poi ho riflettuto un po' su quello che è successo in questi giorni. Diciamo che ho preso atto di tutta una serie di cose. Io avevo chiesto al Comune con una prima lettera e con una seconda lettera, ancora più specifica, che mi è stata espressamente richiesta, di trovare qualcuno in grado di rilevare il mio impegno o perlomeno affiancarmi, dando tempo, credo dall'inizio, intorno a 20 giorni, 25 giorni. Stasera termina il termine che mi sono, che ho assegnato e che mi sono assegnato innanzitutto. E diciamo che fino a oggi né io né il mio avvocato, l'avvocato Cajulo, abbiamo ottenuto nessuna concreta proposta, per quanto meno discutibile. L'unica cosa che ho ricevuto è una serie di gratuiti apprezzamenti, di svalutazioni e di... e mi fermo qui perché sarebbe abbastanza lunga l'elenco dei commenti riservati, che poi riservati non sono falsi, completamente falsi. Si riferisce alla situazione debitoria della società? Si, mi riferisco alla mia situazione, alla situazione della società, mi riferisco a piccoli commenti da bassa cucina, che alcuni rappresentanti del popolo non dovrebbero fare, a mio modo di vedere. E... ma ripeto, è il mio personalissimo parere. Ma di concreto assolutamente niente, se non un topolino che ha partolito la montagna, che è questo signore di Martina Franca, che non ho il piacere di conoscere, e che è venuto giù come un elefante nella cristalleria, senza per questo produrre nessuna concreta formula di proposizione discutibile, se non delle esternazioni a mezzo stampa che non credo abbiano la caratteristica del buon gusto. Ma io non sono nessuno per insegnare a nessuno come si sta il mondo, per carità. Forse non ci so stare neanche io. E forse però appartengo a una generazione che certe cose si guarda bene dal farle. Olivieri ha detto comunque che era disposto a chiudere l'operazione, a patto che lei azzerasse i debiti e presentasse una garanzia fidevissoria, o comunque una garanzia per eventuali brutte sorprese future. Sì, ma questo signore dimentica un piccolo particolare. Come in tutte le società esistono anche i beni patrimoniali. No, ho fatto l'imprenditore per 36 anni, qualche cosa non la ricordo ancora. Questa società ha un bene patrimoniale che è il titolo. Il titolo che, se ricordo bene, il Brindisi ha pagato alla federazione circa 300 mila euro, correggetemi se sbaglio. Quindi questa valutazione non l'ho fatta io, ma l'ha fatta la federazione calcio. Bene, tutto può andare bene, però poi mi si deve pagare il titolo. Non si può pretendere di avere un titolo gratuito e io ripiani tutti i debiti. Questo succede nel Paese dei Balocchi, ma Collodi ha scritto Pinocchio molto tempo fa. Presidente, un'idea però se l'è fatta. Se qui a Brindisi oggi un'idea ce l'ha, vuole andare avanti da solo, ha qualche intenzione di proseguire così come ha fatto, facendo anche sacrifici per mantenere questo Brindisi. Ti ringrazio per la domanda intelligente. Era la seconda metà della mia risposta, mi hai anticipato. Visto quindi che sono venuti fuori questi tre soci improvvisamente, mentre invece non c'era nessuno disposto ad affiancarmi, ma forse io non sono simpatico e mi sta pure bene. Quindi, vista la situazione, quella che è, visto l'ottimo rapporto che ho con la tifoseria e con i ragazzi che giocano con la nostra maglietta, io ho pensato che per il momento andiamo avanti, domani saranno pagati gli stipendi, che pagherò io? Vabbè, questo è pleonastico. Comunque questo serve a... È il proprietario. Eh beh, sono il proprietario, giustamente decido cosa fare del mio possedimento, diciamo così tra virgolette. Quindi l'ho pagato bene il mio... Perché che se ne dica, all'inizio c'erano dei debiti pesantissimi, quando voi vi ricorderete sono venuto qui a Brindisi tre campionati fa, e se quei debiti pesantissimi non ci sono più, certo non è che il Brindisi ha vinto un superanalotto, questi soldi li ha messi qualcuno. Comunque, chiusa questa parentesi, torniamo alla realtà vera, calcistica, non a quella giocata con le figurine panini, che non mi appartiene. La verità è che andiamo avanti, domani paghiamo gli stipendi, i ragazzi se li sono meritati, sono stati contentissimi, mi hanno invitato a restare ancora una volta, io sono orgoglioso di questi ragazzi, come credo dobbiamo essere tutti in questa città, e chiunque fosse interessato al Brindisi, questa volta dovrà bussare alla porta, con molta delicatezza, venire con molta umiltà, e sedersi eventualmente al mio tavolo, solo e se sarà da me gradito. Diversamente, la città di Brindisi Calcio è una società che è mia, al 98%, che porto avanti con grandi sacrifici miei e della mia famiglia, e con l'aiuto di mio figlio economico, e che andrà avanti con tutti i nostri sforzi, sempre che la città lo vorrà, sempre che le istituzioni cominceranno realmente a capire l'importanza del veicolo calcio, e seriamente si schierino, non con me, perché io non ho bisogno di nessuno, anche perché non sono Brindisino, non ho interessi a Brindisi, e forse questo è il mio handicap, ma capiscano che il Brindisi deve essere aiutato, così come tutti gli altri sport, e non deve essere, non deve diventare un bersaglio su cui sparare, solo perché appartiene a Flora, e poi non sparare più se appartiene magari al signor Rossi Luigi. Lei dunque resta, i progetti sono sempre gli stessi, i programmi sono sempre gli stessi? Beh, certo, certo, aspetteremo dicembre, dicevo poco prima, agli amici capi Ultras, aspetteremo dicembre per vedere dove siamo, dove ci troviamo, certo, se abbiamo uno svantaggio importante con le prime della classe, mi sembra uno spreco continuare a mantenere una squadra importante, però se noi saremo lì, come sono non sicuro, ma sicurissimo, noi continueremo a crederci, a insistere, e io credo che a quel punto sarà un po' più difficile per tutti nascondere la testa sotto la sabbia e dire che il brindisi, il brindisi calcio, voglio specificare, è soltanto una meteora o è una società indebitata o è una società che non vuole nessuno o è una... tutto quello che c'è di peggio. Vediamo come stiamo a fine dicembre, dopodiché tiriamo la linea, valutiamo magari obiettivamente con grande serenità e umiltà e vedremo il resto del campionato che cosa ci aspetta. Io mi auguro, ripeto, che noi possiamo essere lì con le prime e a quel punto vedremo quanto ci vuol bene, quanto mi vuol bene questa città, quanto questa città tiene ai colori della propria maglia. Presidente, in merito alla sua situazione familiare, perché insomma non era un mistero che anche all'interno della famiglia stesse facendo un po' di pressione affinché lei lasciasse questo impegno e la sua situazione di salute invece? Beh, guardate, io purtroppo ho avuto un incidente di salute che fortunatamente non ha minato la mia intelligenza e la mia psiche, quindi voglio dire, ragiono ancora come prima, ne ha minato la mia situazione patrimoniale. Diciamo che la mia situazione è stazionaria, io vorrei essere a Brindisi tutti i giorni, me l'hanno chiesto anche i ragazzi, il tecnico, perché quando vengo dicono, e mi fa molto piacere, mi inorgoglisce, che hanno una carica in più. Questo mi fa grande piacere, però purtroppo non potrò farlo e me ne dispiace veramente moltissimo. Cercherò di ottemperare ai miei doveri facendo un po' il, come si dice, cercando di accontentare i miei familiari che non vogliono che continui questa avventura e il mio cuore, il mio desiderio, la mia sensibilità che mi impone di andare avanti in questa avventura per il patto che abbiamo fatto con i tifosi, per gli impegni che ho preso e che nella mia vita ho cercato sempre di portare a termine e vedremo poi come andrà a finire. Ecco, ho detto, andiamo avanti step by step, come dicono gli americani. Adesso abbiamo sistemato l'aspetto economico, adesso affrontiamo queste partite e vediamo fino alla fine di dicembre dove siamo e dopodiché vediamo se mi ritroverò di nuovo e ancora una volta solo con una squadra che Bagari è lontana dalla vetta sarà inutile continuare a sperperare soldi. Se invece le cose vanno bene mi troverò più sorretto sotto tutti gli aspetti con una tifoseria numerosa come gli aspetto e con mi aspetto e con qualcuno che finalmente decida di dare una mano concreta perché non dimentichiamoci che qui siamo partiti approfitto per citare siamo partiti l'anno scorso da 280 mila euro di sponsor sono diventati 105 gli altri li stiamo ancora inseguendo quest'anno a sentire il comune erano 400 mila euro di sponsor sono 60 gli altri stiamo ancora aspettando e quindi c'è qualcosa che non funziona insomma adesso escono tre soci capaci di un investimento che fino a quando c'ero io erano soltanto delle ombre non si sapeva non si sapeva a chi potesse interessare le nostre sorti quindi vediamo che succede io vado avanti vado avanti e vediamo che vediamo cosa combina la squadra la squadra ci fa ben sperare e il mister è fiducioso e vediamo un poco cosa succede se riesco a evadere sì se riesco a evadere da casa sì insomma possiamo dire che è un futuro strettamente legato ai risultati beh i risultati sono importanti in questa situazione sì bravo io sono convinto che i risultati fanno molto bene faranno bene ai tifosi per farli avvicinare allo stadio faranno bene a chi vuole bene al Brindisi per dare una mano e spingere sempre più me e la mia famiglia a investire nel Brindisi e fanno bene innanzitutto la squadra perché più punti si fanno più aumenta l'autostima più ci credono lo stiamo vedendo del resto questi stessi calciatori ne abbiamo parlato nello spogliatoio questi stessi calciatori sono gli stessi delle prime partite però ora ci credono ora sanno di avere delle potenzialità ora rimontano le sconfitte anche fuori casa su campi difficili come domenica e quindi i risultati sono importanti importantissimi grazie a tutti i nostri spogliato